Il mare abruzzese passa l'esame quasi a pieni voti, solo due punti critici su 113 prelievi effettuati dall'Arta. I risultati hanno evidenziato parametri conformi ai limiti di legge, ad eccezione di due soli tratti di mare, uno nei pressi di Ortona e il secondo a casa al Bordino. Dopo il primo campionamento del 2023, eseguito il 20 aprile scorso, che aveva dato esiti negativi in 11 tratti a causa del maltempo, le indagini suppletive effettuate il 26 aprile con condizioni stabili e adatte al monitoraggio hanno fatto emergere valori confortanti. I punti controllati sono stati 113 e questo a poco meno di un mese dall'inizio della stagione balneare, che si aprirà il prossimo 15 maggio. Un grande lavoro di Art Abruzzo. L'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente si occupa dell'intera costa abruzzese con svariati punti di prelievo, con personale che effettua i campionamenti e i laboratori impegnati nell'analizzare centinaia e centinaia di campioni. Il primo di questi, il primo di una lunga serie che terminerà a settembre, ci dà un'immagine sufficientemente rassicurante del nostro mare. I due punti critici sono due punti in prossimità delle foci che anche negli altri anni ci hanno dato dei problemi. Quindi non è una novità. L'importante è che l'intero mare abruzzese sia fruibile, sia balneabile per la prossima stagione estiva. Il lavoro dell'Arta però non si ferma qui perché il monitoraggio proseguirà mensilmente per verificare la buona qualità delle acque destinate alla balneazione. I risultati vengono inseriti nel portale acque di balneazione del Ministero della Salute e quindi si tratta di dati accessibili a tutti, dati che potranno essere visionati anche sul sito dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Saranno cadenzati attraverso un preciso programma sia dei punti di prelievo che delle date concordate con la regione Abruzzo e puntualmente questi prelievi saranno esaminati, analizzati e resi pubblici attraverso il nostro sito e tutti gli altri canali all'uopo utilizzati.